good elemento del numero 5 ora continua a tirar su una alla volta questo è stato assegnato però facciamo vedere numero 5, numero 5, 5, 3, 4, il primo a 5 ma fa da modo con il 5 lini, c'è dal 3 vai dammene una Sofì ok e poi c'è l'uno dove è l'uno? ok, prima giocata fatta l'abbiamo dimostrato, il primo estratto è stato il 5 che si assegna l'opera di Rob Wood e chi è? li estraiamo più velocemente no, tanto non fa gioco adesso ma solo per far vedere che ogni estratto è stato fatto rispettando erano 4, perfetto, giusto la prova, vedo che anche la sindaca è perfetta questa è un'allegra le rileviamo tutte e andiamo a fare il gioco